Se la provincia di Vibo Valencia rappresenta il territorio calabrese in maggiore vocazione turistica, è possibile che sia questa la strada da imbocchiare per risolvere l'atavico problema della disoccupazione giovanile? La risposta dovrebbe essere scontata, eppure non è così, non è ancora così. Perché? Cosa manca? Cosa si può fare? La Prologo di Vibo Valencia prova ad offrire una prima risposta rivolgendosi direttamente a quei ragazzi che hanno scelto di indirizzare i propri studi nell'ambito turistico alberghiero. E così, tra il 26 febbraio e il 3 marzo, sarà possibile confrontarsi con i principali esperti del settore. Ci sarà una settimana in collaborazione con Job in Tourism e TFP Summit, che sarà a Milano, il 1 febbraio 2018. Qui invece a Vibo farà unica tappa regionale, il 26 febbraio 2018. Per 7 giorni, 6 giorni, i ragazzi avranno possibilità di confrontarsi con le varie accademie, corsi di formazione, recruiting day, quindi opportunità di lavoro per i giovani che escono dalle scuole superiori. Insomma, una Prologo che dà possibilità ai giovani di occupazione e di formazione in una città dove la disoccupazione è ai massimi livelli. Quanto è importante questo contatto con aziende di questo livello? L'importanza è notevole in quanto Job in Tourism ha subito sposato l'iniziativa favorendo l'inclusione sia della Prologo nel programma regionale come unica tappa regionale sia della PT Calabria, dell'azienda di promozione turistica Calabria. Quindi la città di Vibo, una volta, si distinguerà per il positivo, per avere un'unica tappa regionale di occupazione per giovani calabresi non solo della provincia e della città, ma dell'intera regione Calabria.